9 settembre 1595. Nasce a Parigi Armand Jean Duplessis, duca di Richelieu, statista francese. Appartiene alla piccola nobiltà e non essendo primogenito viene indirizzato come d'uso alla carriera ecclesiastica. Consigliere e cerimoniere della reggente Maria de' Medici nel 1616, riesce a farsi notare da suo figlio, il re Luigi XIII. Ben presto le sue qualità gli procurano la fama di abilissimo negoziatore. Ne riceve in cambio anche la nomina a cardinale. Arrivare fino a Roma per ritirare la berretta e il titolo, però, non gli garba. Primo ministro dal 1624, conserverà grande influenza sulle decisioni del re e degli stati generali di Francia. Nel campo della politica estera aveva ereditato una nazione in condizioni molto difficili, umiliata dalla Spagna e minacciata dalle navi inglesi. Un ventennio dopo, il regno si espande sui Pirenei ed oltralpe, affacciandosi anche sul Reno. Scongiurato il piano di manovra a Tenaglia delle due casate asburgiche, l'impronta francese sull'Europa si profila netta. Sarà realizzata dal successore, il re Sole. Richelieu, anche grazie a sapienti e subdole manovre, impone sempre più i suoi piani e la dinastia borbonica trionfa. Ruolo essenziale viene attribuito alla cultura, che ha il compito di elaborare nuovi valori sviluppando il sentimento della grandeur. Uno dei capisaldi ne è la lingua. Nasce così l'Académie française, che con la Sorbona resta simbolo e pilastro dell'identità nazionale anche nella Francia di oggi.